Aveva seminato il panico in città nella notte del 23 ottobre del 2020, assieme agli altri due complici processati e condannati, per lui la trafila e la ripartirà da capo con la riformulazione del capo di imputazione, ma ora, viste le novità introdotte dalla riforma cartabbia, non si può più procedere nei suoi confronti. Ha dell'incredibile la vicenda giudiziaria che vede protagonista AC, uno dei giovani arrestati dei carabinieri tre anni fa, specializzato nei furti d'auto. Non essendoci querela è venuta meno la condizione di procedibilità. Per questo il giudice, René Gianminoni, ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere. L'uomo era stato colto sul fatto, mentre tentò di rubare un furgone Fiat Ducato, forzandone blocchetto di accensione con un particolare trapano manuale e artigianale. Vistosi scoperto, si diede alla fuga, arrivando anche a nascondersi sotto ad altre auto-vetture parcheggiate nelle vicinanze, ma i suoi sforzi furono vani, poiché i carabinieri prontamente lo raggiunsero, fermandolo sul posto, unitamente agli altri due colleghi, con tanto di virgolette. I tre, sottoposti immediatamente a perquisizione sia personale che vecolare, furono trovati in possesso di ulteriori arnesi da scasso, che portarono i militari ad espletare ulteriori indagini, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza, che permisero di appurare che gli stessi avevano tentato poco prima di asportare altre due auto-vetture senza riuscirvi. Complessivamente, gli specialisti dei forti d'auto aggirono su otto veicoli, parcati in pubblica via, con l'aggravante di aver commesso violenza sulle cose esposte in pubblica fede. In un'occasione si impossessarono anche di un paio di occhiali da sole, una moneta da 100 fiorini ungheresi e quattro monete da 200 fiorini. Tutti furono arrestati in fragranza di reato dal nucleo radiomobile dei Carabinieri dopo rocambolesco in seguimento in via Pescara. Due di loro avevano rimediato una condanna pari a cinque anni di reclusione a farla franca grazie agli effetti della riforma. E' stato l'odierno imputato, prosciolto per difetto di procedibilità, ovvero perché nessuno aveva presentato querela all'epoca dei fatti. Incredibile, ma vero.